E non possiamo, per come è così facile, per poter non riprendere cose da spiegare bene di l'anzo qual è quello che sta accadendo nel gruppo FI e per le sue nuove condizioni. Quando siamo stati in questa crisi, io ricordo le ultime assemblee che stavamo facendo in quella fase in fabbrica, che dicevamo...